Le previsioni meteo in Sicilia per lunedì 28 ottobre di Globus Television. Lunedì giornata senza particolari variazioni contrassegnata da condizioni di bel tempo ovunque con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Temperature massime fino a 24 gradi, valori notturni stazionari. Venti da sud mari, Martirreno poco mosso, Marionio poco mosso, stretto di Sicilia molto mosso. Grazie a tutti.